Mamadou, primo test stagionale, è arrivata anche una vittoria in rimonta con pochi giorni di allenamento. Com'è il bilancio per te dopo questa prima partita? Non è stato facile perché abbiamo fatto una settimana di lavoro, quindi abbiamo dovuto soffrire un po' all'inizio della partita. Però abbiamo avuto una grande reazione sfruttando i palloni di in avanti che ci avevamo avuto e così abbiamo cercato di fare il gol. Gol che tu hai trovato al termine di un'azione molto bella, penso che per te è anche una bella soddisfazione. Tu hai già fatto molto molto bene l'anno scorso, soprattutto la seconda parte al Trapani, sei tornato qui. Ti stai allenando alla grande e hai avuto anche la soddisfazione del gol? Sì, sono molto contento perché è sempre bello fare il gol, però cerchiamo di allenarsi bene e di continuare a allenarsi così. Dopo vediamo quello che succede, però è sempre bello fare il gol. Oggi nel classico 3-5-2 bianco-nero hai giocato lì nel tuo ruolo preferito, possiamo dirlo, lì di mezzala e dove hai fatto vedere le cose migliori anche negli anni scorsi. Sì, 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 perché posso fare in mezzo a due centrocampi, però preferisco più la mezzala che ho l'abitudine di buttarmi sempre, di andare sempre. Quindi è lì, trovi proprio il gol, quindi a me mi piace andare sempre, fare assisto e fare gol. L'ultima cosa che ti chiedo, per te ma anche vedendo in campo i tuoi compagni, dopo pochi giorni, tu dicevi neanche una settimana già un amichevole importante contro una squadra di Serie B. Come erano le gambe? Giravano oppure le sentivate un po' giustamente pesanti per i carichi? Eh sì, è normale, perché se ti fermi che non ti alleni per niente, è normale dopo quando ritorni in campo lo senti la sofferenza, però abbiamo saputo tenere tutto. E niente, siamo ucciti alla grande.